anticipazioni e spoiler la promessa puntate che vanno dal 18 al 22 settembre cruz nei guai le anticipazioni delle nuove puntate della sop opera la promessa ci diranno che il cruz il suo segreto in modo particolare verrà alla luce catalina infatti scopre che la spilla appartenuta alla madre è misteriosamente scomparsa ed è stata acquistata da un rivenditore in un negozio di pessima fama non sarà l'unico segreto però che verrà a galla visto che i suoi sospetti sul padre camillo si riveleranno fondati infatti quest'ultima riuscirà a dimostrare che padre camillo non è un vero prete a quel punto l'uomo minaccerà con una pistola funes e il povero alonso seminando il panico alla promessa per fortuna tutto si risolverà per il meglio il finto religioso finirà in caserma per i dovuti accertamenti nel frattempo curro e lorenzo fanno una visita al sanatorio per trovare eugenia ma accadrà qualcosa di inaspettato catalina invece ha scoperto che cruz è stata lei a rubare la spilla proverà quindi a metterla alle strette mauro infatti rivelerà l'identità del ladro che ha rubato la spilla alla villa ed è stata cruz catalina quindi proverà a ottenere una confessione della nobile donna ma la faccenda si concluderà in modo diverso perché ad emergere sarà un'altra verità diversa da quella che si aspettava verità diversa da quella che si arriva